Domenica 16 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo della direzione del Comitato Agropoli e Cilento della Croce Rossa Italiana. Le urne dei tre seggi di Agropoli, Castella, San Lorenzo e Pollica hanno visto la riconferma di Gianna Infante alla presidenza per la seconda volta, che è uscita vincitrice dalle votazioni con 176 voti contro i 71 di Antonio Squeglia. Siamo in compagnia di Gianna Infante, di nuovo presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento. Allora Gianna, altri quattro anni supporterai con il gruppo del Comitato la città di Agropoli e l'intero Cilento. Raccontaci anche del direttivo. Riconfermata, emozione e commozione per la seconda volta. Anche in questo caso ha trionfato la sincerità e il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni. Il direttivo si è rinnovato, abbiamo dei visi nuovi, ma il nostro credo e i nostri obiettivi restano uguali, anzi miglioreremo e aumenteremo sempre più le attività sul nostro territorio. Abbiamo Domenico Giannella, il primo eletto, Ivan Di Donato e Felice Tesauro. Come giovane abbiamo Natascia Siano, una giovane avvocata, la new entry della Croce Rossa, che rappresenterà i giovani ad Agropoli e il Cilento. Quindi avremo tantissimi progetti, tantissimi eventi in programma. Che cosa dire? Il nostro obiettivo è quello di arrivare in modo capillare ovunque c'è il bisogno, così come abbiamo fatto in quattro anni, con la promessa di migliorare ed essere sempre più propositivi e determinati. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e grazie al nostro territorio che hanno dimostrato di volere ancora la nostra presenza. Grazie. Quali le azioni che nell'immediato la Croce Rossa, Comitato Agropoli del Cilento, metterà in campo a favore dei cittadini? Torneremo con estate con Cri sulle spiagge di Agropoli, quindi accompagneremo le persone diversamente abili a fare il bagno, a trascorrere le giornate in spiaggia. Torneremo d'estate, estate in bici, quindi bici della Cri che pattuglieranno le strade lungomare di Agropoli e quindi creeremo l'estate sicura, cardioprotetta possiamo dire. Le iniziative nelle scuole saranno tante, quindi corsi di formazione, e il nostro progetto che sta andando benissimo, Io non bevo la vita. Poi abbiamo tantissimi progetti per i ragazzi autistici, faremo degli eventi, creeremo degli eventi, ci saranno delle iniziative per i giovani, quindi promossa dal nazionale, dalla Croce Rossa nazionale, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi verranno distribuiti davanti a discoteche oppure a locali di sera dei preservativi e verranno compilate dei questionari, quindi per i giovani. E poi continuerà tutto ciò che era già in itinere, quindi con gli anziani, con le misurazioni al centro sociale, ci sarà prossimamente il carnevale, saremo presenti all'Alf Marathon, quindi diciamo che continuiamo il nostro lavoro.